Malattia diverticolare. Il diverticolo è un'estrusione della parete e dell'organo, viene definito vero quando composto da tutti gli strati, pseudo, quindi falso, se la mucosa si ernia attraverso la muscolare ed è tipico del colon in quest'ultimo caso. È causato il diverticolo da fattori come l'età avanzata, dieta povera di fibre, ricca in carboidrati e carne. Si verificano nel punto di penetrazione delle arteriole e della tonaca muscolare, quindi il versante mesenterico o il versante anti-mesenterico. Coinvolgono il sigma di solito, quindi il colon discendente. Nel 5% dei casi possono essere localizzati su tutto il colon per via proprio di un aumento di pressione, che è tipico peraltro del colon ed è la causa dei diverticoli. Le diverticoliti non sono altro che il risultato della perforazione, il sigma è la sede più frequente. Abbiamo dolore al quadrante inferiore al sinistro, che può irradiarsi a livello sovrapubico, inguinale, pelvico, schiena, lombare. Alterazioni dell'alvo, un con febbre, urgenza minzionale. Possiamo avere difesa dell'addome, massa palpabile in fosse liaca sinistra, che indica un ascesso o un flemmone. Oppure possiamo avere anche una distensione per ilio o ostruzione d'ascesso. All'ispezione rettale vediamo una massa fluttuante tipica di ascesso pelvico. La diagnosi è con TAC o con clisma a mezzo di contrasto iodato. Ci si avvale anche dell'ecografia. La classificazione viene fatta in stadio 1, stadio 2, 3, 4. Stadio 1 di diverticolite quando noi abbiamo un ascesso mesenterico localizzato. Stadio 2 quando l'ascesso è pelvico diffuso. Stadio 3 quando abbiamo una peritonite purulenta generalizzata. Mentre lo stadio 4 quando abbiamo una peritonite stercoracea generalizzata. Il trattamento differisce a seconda della forma. La forma non complicata viene trattata con somministrazione di antibiotici e mepiridina. Deve risolversi entro 48 ore. Dopo 3 settimane si fa una valutazione endoscopica per escludere il cancro. E il soggetto dovrà adottare una dieta ricca di fibre. Questo però non complicata. La ricorrente viene trattata fondamentalmente con sigmoidectomia dopo due attacchi di diverticolite non complicata. Quindi si fa un approccio laparoscopico. Si marca la lesione conchina e poi si passa alla sigmoidectomia. Quindi dopo due attacchi di diverticolite non complicata ripetuti. E poi abbiamo la diverticolite complicata. Cioè con ascesso o fistola o peritonite o ostruzione. L'ascesso viene risolto di fatto con drenaggio, terapia antibiotica. Drenaggio che può essere per cutaneo oppure per via chirurgica. Terapia antibiotica. Alla risoluzione dell'ascesso si fa una resezione del tratto. Le fistole sono soprattutto fistero-entero-vescicali con pneumaturia e fecaluria. In particolar modo in questo caso si farà una terapia ovviamente con antibiotici. Poi si farà una resezione del tratto. Quindi una sigmoidectomia con anastomosi colorettale. La fistola si risolverà praticamente spontaneamente sull'altro organo. La peritonite generalizzata richiede intervento immediato. Con sigmoidectomia più colostomia secondo Hartman. In questo caso si fa un lavaggio peritoneale. Somministrazione ovviamente di antibiotici e drenaggi. con parenterale fino alla risoluzione del quadro peritonitico. L'ostruzione invece può essere data da ipertrofia della tonaca muscolare oppure da una infezione. In questo caso comunque si va a detendere con sondino nasogastrico. E si fa il trattamento dell'infezione con drenaggio dell'ascesso.